La menopausa non è una stigmata, non è una cosa, cioè io rimango un po' perplessa per quante persone hanno terrore di parlare di una menopausa, è come se fosse una vergogna la menopausa, è come se ci passiamo da essere giovani, attraenti e sensuali a diventare nonne, con tutto il rispetto che non vedo l'ora di essere nonna, penso che sono stagioni della vita e penso che ovviamente non è una stagione che possiamo evitare. Vogliamo smettere di essere terrorizzati nella menopausa o far terrorizzare gli altri sulla menopausa perché è come provare di bloccare un'onda, un'onda, quello che ho imparato surfando, è che se l'onda ti sta per venire diciamo di fronte e travolgere hai un paio di scelte, puoi tentare di surfarla, puoi tentare di lanciarti sopra o dentro l'onda per lasciare la menopausa. Puoi tentare che la tavola segui dietro di te per non farti del male, ma se tu provi di bloccare l'onda ti fa male, ti fa malissimo, non lo vivi bene, per quanto riguarda un'onda può pure farti male. Però andiamo a spiegare quello che molti di voi mi state scrivendo dei sintomi della menopausa. Allora noi abbiamo dei freni metabolici durante l'arco della nostra vita perché il nostro corpo è programmato per la sopravvivenza e per dedicarsi il suo tempo, le sue sforze o la sua energia a un specifico momento della tua vita. Nella prestissima età, quando siamo neonati, abbiamo un metabolismo velocissimo perché il corpo si sta producendo la crescita. Il primo blocco metabolico, noterete, è stato intorno ai vostri 13-15 anni. Ok, 13-15 anni eravate giovani, potete mangiare qualsiasi cosa, merendine, biscotti, quant'altro. Poi c'era stato l'estate della tua adolescenza dove hai avuto un freno metabolico e ti sei molto probabilmente ingrassato perché il corpo, il primo freno metabolico, secondo me, è legato all'altezza. Perché a un certo punto abbiamo crescita e crescita e crescita e crescita e crescita e crescita e più o meno questa nostra altezza. Il corpo continua a crescere, però un po' più lentamente. Cos'è il primo freno metabolico? Il secondo freno metabolico è a 25 anni, lo vedi proprio sul diagramma, va velocissimo, cala, fa una curva da 15-25 anni, proprio cala. Continua ad essere alta e da 25 anni scende completamente, più o meno un per cento all'anno fino alle vostre 70-80 anni del resto della vita. Perché una volta che ho smesso di crescere in altezza, poi continua a crescere le ossa, a densificare le ossa, il cervello diventa maturo a 25 anni. E tutta questa crescita porta avanti il metabolismo e poi a 30 anni noterete un freno metabolico e il terzo freno metabolico lo noterete a menopausa. Molto di voi mi avete scritto su quella famosa domanda Agile sul mio sito www.gcuber.it In menopausa, siete in menopausa, siete in perimenopausa, in menopausa, entrando in menopausa o appena superate la menopausa. E quasi tutti mi parlano di uno fortissimo ingrassamento. Cioè proprio mi avete detto, in un anno ho preso 8 kg, 10 kg, quella è tanta roba. E quello potrebbe spaventare perché non vedi più il corpo tuo e quello mentalmente è devastante perché il menopausa porta anche altri sintomi, se lo vogliamo dire, che sono un po' di roba da gestire. Ci potrebbe, e la dico ci potrebbe, non è detto che succede, ma ci potrebbe essere qualità del sonno peggiorato. Cominciate a vedere che i muscoli non sono più compatti o sostenuti come erano prima, quella è sarcopenia. Potremmo avere problemi di depressione, potremmo avere problemi del caduto dei capelli perché gli estrogeni ci aiutano a mantenere il capello bello folto. Potremmo avere problemi della pelle, potremmo avere problemi del metabolismo. Ok, così. Non vi spaventate, ok? E poi quasi tutti dicono, ah vabbè, faccio la sostitutiva. Però anche se tu fai la sostitutiva, ci arriverà un momento, magari non sono 50 anni ma 57 o 60, 65, 70 anni, che dovrai interrompere la sostitutiva. Perché non conosco un ginecologo che lo tiene fino a 100 anni sulla sostitutiva perché gli ormoni portano tutto un'altra schiera di problematiche che parlerete con il vostro ginecologo e non con me. Detto questo, quando arriviamo in menopausa, che cosa possiamo fare per ritornare in forma? Allora, la prima cosa per allungare per il menopausa, allungare per il menopausa. Questa è una cosa molto importante perché per il menopausa io sono entrata in menopausa a 43 anni per due motivi. Uno per uno stress assurdo della perdita di mia sorella, due perché lavoravo troppo e caricavo troppo la stress del mio corpo e tre per uno fattore leggermente di predisposizione genetica perché anche mia madre è entrata in menopausa. Presta a 47 anni e così ho messo tutti quei fattori insieme. Se sapevo a 43 anni quello che so adesso, magari avrei potuto prolungare, non dico bloccare, ma prolungare il mio per il menopausa anziché entrare a 43, magari potevo entrare a 46, 47 anni. Allora, noi abbiamo e siamo troppo stressati. Lo stress agisce sui surinali, producendo adrenalina e altre molecole, cortisolo, tutto quello che ci tiene stressati per lottare per fuggire. Il problema è che anche i nostri ormoni sessuali passano per i surinali. Se io scarico il surinale perché sono sempre on, sempre stressato, sempre sul cellulare, dormo poco e faccio logro il corpo, i miei poveri surinali non riescono a produrre gli ormoni sessuali necessari per tenere le ovaie, diciamo, accese e ecco perché sono entrata in menopausa presto. Dall'altra parte, a causa dei miei fratelli che hanno avuto dei problemi importanti, io non ho mai potuto fare la sostitutiva perché non posso. Questa è una decisione che ho preso io con il mio ginecologo, ognuno ha il suo ginecologo, prendete questo discorso con il vostro ginecologo, io sto parlando di Gil e solo di Gil e che cosa ha fatto Gil. Ma sono la prova vivente che con le giuste precauzioni, non precauzioni, con le giuste, diciamo, sì, anche precauzioni, magari puoi allungare il perimenopausa e quando sei dentro il menopausa puoi mantenere attivo il vostro metabolismo, potete tenere i capelli forti, potete aiutarti con la sarcopenia, potete andare avanti. Allora, primo, prima, prima approccio. Sono in perimenopausa, 43, 44, precoce, se, ragazzi, menopausa va da 45-55 anni, ok? E precoce se supera e anche leggermente precoce se vogliamo dire, se vediamo perimenopausa 45-46 anni. Rilassatevi! E uno dice, ma come mi rilasso se ho la vita di stressata e questo stressato? Allora, ci sono tante cose che possiamo fare. Ci sono un nuovo webinar che comincerò la prossima settimana su nowgecooper.com legato a come riprogrammare il subconscio e questo ci aiuta a calmare, placare il sistema parasimpatico che ci aiuta a rilassare. Altre molecole che ti possono aiutare a ridurre lo stress nell'organismo si chiamano adattogenici. Un adatto genico da Darwin ci insegna che chi, gli organismi che riescono ad adattarsi ai stressori della vita, stressori della vita può essere psicologico, ambientale, mentale, alimentare, ok? O anche proprio di bombardamento di smog altri stressori, il corpo o l'organismo che riesce ad adattarsi con i stressori della vita ha la più grande probabilità di procreare, prolungare, evolvere e andare avanti, ok? I adatto genici sono delle piante che aiutano l'organismo ad adattarsi, di intossicarsi, ridurre lo stress per aiutare il corpo, ridurre nell'organismo quello che è infiammatorio. L'infiammazione è quello che ci fa invecchiare troppo velocemente. Così se noi siamo in perimenopausa e vogliamo migliorare la nostra vita, diciamo, riproduttiva, ok? O allungare il nostro ciclo, ridurre lo stress nell'organismo. E non è soltanto una questione di sport, perché sport aiuta a ridurre lo stress, non troppo sport, lo sport giusto aiuta a ridurre lo stress, fluid riduce lo stress, trampolino produce endorfine, ok? Poi dopo vi faccio vedere anche altre cose, però ridurre lo stress nell'organismo. Molecole, piante, abbiamo immunofen, immunofen sul nostro sito che è pieno di adattogenici, pieno di adattogenici e pensaci te, che si chiama immunofen, per il sistema immunitario che è legato al sistema parisimpatico, è legato al vostro microbioma, è legato all'infiammazione. Il sistema immunitario decide se tu sei infiammato o no. Così, se tu vuoi ridurre lo stress nell'organismo, concentrati sul tuo sistema immunitario. Aiuta il sistema immunitario, lui mi aiuta a ridurre l'ansia, lo stress, l'alarme, l'infiammazione nel corpo e molto probabilmente, se aiuto anche la qualità del sonno, io potrei magari allungare la fase della perimenopausa. Ok? E questi altri prodotti per ridurre lo stress nell'organismo è Curcumax, che è curcuma, zenzero e peperino. E noi abbiamo la curcuma micronizzata e spezzettata, è più biodisponibile. Così, c'è la quasi certezza matematica che il tuo corpo assorbe la curcuma per ridurre l'infiammazione nel corpo. Stress block, dal nome stesso, riduco lo stress, perché abbiamo l'ashwagandha, l'agrifonia, ci sono delle piante dentro il stress block, è la fosfetidil serina che riduce la produzione di cortisolo fisicamente nel vostro corpo. Ganoderma, il fungo delle immortalità, ok? Il fungo chiamato fungo degli imperatori che aiuta a ridurre lo stress nell'organismo, ci sono tutte piante adattogenici che ci potrebbero aiutare nella fase di perimenopausa. E ci sono anche tutte piante che ci aiutano a migliorare la qualità del sonno. Il sonno è rigenerativo, il sonno aiuta sia se sono imperi, meno o postmenopausa, perché la qualità del sonno cambia quando sono stressata o cambia quando sono nel menopausa. Ma andiamo avanti adesso a parlare dei muscoli. Ok, allora menopausa adesso porta a un rallentamento metabolico e qui mi dispiace, ma la devo dire a tutti quanti che possono pensare o dicono ma io sono sempre stata magra, non ho bisogno di allenarmi. Arrivi in menopausa e vedrai che questo non è più una certezza. Può essere, perché ci sono, conosco anche le donne che sono in menopausa, sono filiforma. Però il problema di essere filiforme senza la muscolatura è un altro problema, l'osteoporosi o osteopenia. Ok, così abbiamo due bestie da affrontare in menopausa. Una è la perdita di massa magra, un altro è la perdita di densità ossea. Veramente sono tre bestie. La terza bestia è il metabolismo. Ok, trampolino. Andiamo sul trampolino. Abbiamo già parlato tantissimo sul trampolino e magari mi porto avanti con il trampolino così mi vedete meglio e poi dopo vi parlo anche della pedana vibrante. Perché queste sono due armi estremamente efficaci per aiutarti in periodo di menopausa e ritornare in forma. Perché diciamo la verità a 50 anni non hai la possibilità articolare di spaccarti come facevi a 20 anni. a 20 anni vuoi fare HIIT, vuoi fare crossfit, vuoi fare pesi, vuoi fare corsa, vuoi fare delle cose pazzesco. Ok, però le articolazioni magari non ti danno sostegno di questi movimenti. Allora, pedane vibrante e trampolino sono innanzitutto, fanno metà del lavoro per te. Trampolino fa metà del lavoro per te, 50% del lavoro per te. e la pedane vibrante fa 100% del lavoro per te. E la cosa bella è così, non ti pesano. Ok, adesso, solo molleggiando, non sto saltando, sto facendo assolutamente, guardatemi le braccia, vedi il movimento delle braccia, guarda le mani, vedi che le mani proprio hanno questo rimbalzo. Uno non riesco a produrre lo stesso movimento senza neanche piegare le gambe a terra. Quello che dovete capire è che la molla del trampolino ti assorbe il tuo peso o la tua spinta e per una questione di fisica ti rilancia in su, raccoglie l'energia kinetica e te la ridà come energia. Così, tu cominci a saltare, non senti la fatica e lui fa il lavoro per te. Poi ti drena. Questa è un'altra cosa importante, ti aiuta a drenare e ti aiuta a densificare le ossa. Abbiamo un studio scientifico fatto con la scienza motore dell'Università di Palermo che dice che il trampolino aiuta con l'osteoponia. Così, anche se tu dici, ma io sono in menopausa, sono magra, non mi serve di allenarmi. Ma che stai dicendo? Ti serve per rimanere? Si chiama wasting. Wasting vuol dire quando noi vediamo una persona di 80, 90 anni che è lento, che è fragile. Fragile. Perché è fragile? Perché c'è poco muscolo e poi se c'è poco muscolo c'è anche poco densità ossea. Così, noi quando andiamo e cominciamo a affrontare menopausa, secondo me la prima parola è autonomia. Io voglio essere autonoma. Voglio essere autonoma fisicamente, mentalmente. Voglio essere autonoma. Io non voglio pesare su mia figlia quando avrò 85, 90 anni perché mi tengo in forma. E questo non è per essere neanche un peso su mia figlia, però non è per essere peso su me stessa, di non chiedere alla persona di farmi tutto per me. Ok. Trampolino. La perdita dell'urina. L'affronto perché molti di voi mi parlate di questo anche trentenni, quarantenni dopo una gravidanza. Dopo una gravidanza abbiamo dilatazione del tessuto connettivo intorno al grembo. Questo ha bisogno di essere ripristinato e soltanto a terraferma questo non mi allena la mia tessuto connettivo perché non c'è oscillazione. L'oscillazione verticale del rimbalzo o della vibrazione allena il tessuto connettivo. Il tessuto connettivo è tutta quella rete che tiene tutta la roba buona a posto perché la forza di gravità, non so se avete mai fatto una frenata brusca in macchina, cioè tutti fermi ma magari il liquido che stava bevendo sia volato, perché la forza di gravità non è controllabile, la forza di decelerazione non è controllabile. Così se io comincio a saltare sul trampolino e mi sente la voglia o la necessità di fare pipì o una perdita di urina, ecco come si risolve. Io spero che tutti quanti si ricordino questo tutorial perché molti dicono allora non faccio niente, ho fragilità capillare e loro non faccio niente, allora ho fragilità di questo e loro faccio niente. No, perché il corpo invecchia sempre. Io in questo preciso istante sto invecchiando, sto gestendo radicali liberi, tutto sta rallentando sul mio corpo, io sto invecchiando, sto semplicemente tentando di rallentare il processo o sostenere il processo per rimanere autonomo per il più anni possibile della mia vita. Allora se io ho problemi della perdita di urina su un trampolino, uno, non salto in alto, molleggio, 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 molleggio. Bello tranquillo, non faccio altro, ok? Questo comunque mi aiuterà a potenziare i muscoli, comunque mi aiuterà a drenare e non mi darà grandi problemi a livello del, diciamo, della vescica. Ma per il tessuto connettivo, per non avere perdite, per un passo di tempo di un mese, un mese, 3-4 minuti al giorno, salto così. Uno dice, ma io non riesco a saltare così. Perfetto, possiamo anche saltare così. Mano sul telaio. E se avessi il trampolino e potessi sentire i miei abdominali, sentirei che, sentiresti che si stanno contraendo. Ok, questo è una, diciamo, un allenamento che mi aiuta il tessuto connettivo. L'altra cosa, allora, ascoltami qua, apri, prego, perché spesso e volentieri le persone diventano tutti, dicono, oh, non si va! Ascolta il contesto, metterlo nel contesto e poi ascolta la soluzione e poi lo applica alla tua vita. Sto parlando a migliaia di persone in questo momento, ognuno è singolare e queste, non tutte le regole vanno bene per tutti. Ognuno deve avere la consapevolezza e l'intelligenza di applicarlo a propria vita, di provare quello che sto dicendo e vedere se funziona o no. Perché se ci avesse la bacchetta magica, ragazzi, avrei un palazzo di 88 piani, non so dove. Ok? Va bene. Non ho la bacchetta magica, ma sono una persona che crede che tutto è possibile e quando c'è un problema, provo di risolverlo sulla mia vita. Ok. Prima, perdite l'urina, non salto in alto, moleggio. Ok? Perché se comincio a saltare, ovviamente, la decelerazione qui è maggiore che qui. Così. Io già comincio e questo mi sta allenando. E fra due mesi, tre settimane, non so, cambierà su ogni essere umano, perché ogni essere umano è diversa, vedrò che non ho più perdita di urina. L'altra cosa è che ogni volta che vado in bagno, io posso interrompere il flusso di urina. Lo so! Molti dicono, ah non si fa! Non si fa! Assolutamente non si fa! E ti spiego perché ti dicono di non farlo. Perché se quando tu interrompi il flusso dell'urina, per farlo ripartire, spingi, è controproduttivo. Invece, se interrompi il flusso dell'urina e aspetti finché il tuo corpo non ce la fa più e si rilascia tranquillamente e rilasci che comincia il flusso dell'urina naturalmente, tu vedrai, interrompendo due, pare, tre volte, a volta che vai in bagno, perderai, non avrai più problemi della perdita sul trampolino e dall'altra parte. L'altra cosa che possiamo fare è esercizi kegel. Esercizi kegel, lo puoi fare da assoluti, lo potresti fare in questo momento. Ok? Tiro dentro il pavimento pelvico, tiro dentro, ovviamente non lo potete vedere perché lo sento solo io, ma tiro dentro come se stessi, tirando dentro un ascensore all'interno di me stessa, rilascio. Tiro, tiro, tiro e rilascio. E dobbiamo essere costanti. Cioè il problema è che molti di voi pensate che allenandomi una volta a settimana in menopausa posso risolvere il problema. Molti di voi pensate che la camminata che ho fatto fino a 45 anni mi può risolvere il problema anche in menopausa. Non è così. Mi dispiace, mi piacerebbe che fosse così. Mi piacerebbe che ti bastasse. Ma quando abbiamo uno freno metabolico così importante in menopausa, dobbiamo fare di più. Ok? Così. Trampolino ti aiuta l'articolazione, ti aiuta le ossa, ti aiuta la potenza muscolare per proteggerti la potenza muscolare e ti darà risultati. Ma senza fatica. Chiedi a chiunque che fa trampolino senza fatica. Poi per tutti i miei amici che sono anche magari con tanti chili in eccesso, scusami perché non ho un pavimento completamente stabile. Mi metto così e vibro poco perché non ho il pavimento stabile. Ok. Vibrazioni. Allora, molti di voi dicono che ho problemi di vene. Il più grande problema delle pedane vibrante sono i capillari perché effettivamente confermo che è molto, molto, molto allenante per il sistema microcircolatorio. Allora, come se io prendessi, ti mettessi di fronte a un idrante, quello delle pompieri, e tu le aprisse. Quella pressione è forte, ok? E tu non potresti bloccarlo con le manine. Se io prendo, lavoro con i pompieri, uso un tubo per l'acqua, un hose, non so come si chiama il tubo dell'acqua, però il tubo dell'acqua, userei uno fraccico, vecchio, poco elastico, o compro quello che è nuovo, elastico, forte, perché la pressione dell'acqua è alta. Ok. Che cosa succede? Quando noi abbiamo una fragilità capillare che tanti hanno, non vai sulla pedane vibrante come un forse nato per vibrare come la faccio io vedere, perché io non ho problemi delle vene, perché tengo le vene allenate. Le vene possono essere allenate. Le vene possono essere fortificate. Le vene possono essere rinforzate con integratori come farmavenna, farmavene per il microcircolo, ma la vitamina C e oltre ovviamente collagene e altre molecole possono fortificare le pareti venose. Be good, be good. Il pantalone be good, infrarosservaggio lontano, stimola fibroblast a produrre più collagene sulle vene, oltre ovviamente alleggerendo il vostro ritorno venoso. Così, se io ho veramente un problema delle vene, non è che non posso usare la pedane vibrante, devo affrontare la pedane vibrante, come ho detto prima, con l'intelligenza. Ma io non posso decidere per tutti, devi tu decidere per te stessa, perché siete, ripeto, migliaia di persone là fuori e vi devo spiegare come utilizzarlo. Piedane vibrante è sempre, diciamo, gambe piegate, mai dritte, non così, sempre piegate. Mettiamo una vibrazione tollerabile e facile da mantenere. Se ho problemi di schiena, se ho problemi di ginocchio, se ho problemi, molti dicono, la protesi. Io in questo momento sto avendo benefici della vibrazione, ma non sono appeso sulla gamba o sulla colonna vertebrale. A questo punto posso fare cinque minuti di qua, cinque minuti di qua, potrei stare seduto dietro, non sopra, dietro, la pedane vibrante, in questo modo. Per riattivare il mio microcircolo, scusate perché non sono su un pavimento che è stabile, ma questo comunque sentirai il lavoro, sentirai la liberazione. Mi viene da dire la liberazione, perché ci aiuta a avere la pedane vibrante e ci aiuta tantissimo a drenare. Poi aiuta a potenziare i muscoli, che è molto importante, e aiuta anche con la densità ossea. Ci aiuta molto poi con la cellulite. Allora, io vi ho promesso che questa settimana sto facendo tutti i giorni la pedane vibrante, devo rifare le foto con la luce e con il sole che oggi non c'è, ero contro quel muro. Alla fine di sette giorni riscatto le foto per farvi vedere come è cambiato la mia coscia questa settimana. E la prossima settimana sarà in offerta su GM24, così se volete la pedane vibrante ci sarà all'offerta della settimana. Lo sto spoilerando, però comunque è un prodotto pazzesco, è un prodotto che ci aiuta con cellulite, che succede in menopausa, drenaggio. E se avete problemi delle capilari, non fare niente perché non ha senso di fare niente, perché un problema non viene risolto ignorando il problema, lasciando che si decade o deteriora ulteriormente. No, non possiamo rieducare le nostre vene e possiamo potenziare le nostre vene con PharmaVen. Purtroppo PharmaVen è stata totalmente esaurita questo mese sul sito, però torneremo a, come si chiama, avere la prossima settimana perché le produzioni stanno riaprendo. Adesso andiamo su integrazione, perché questo weekend abbiamo dei integratori che sono in offerta, forscolina e le carnettine. Due bombe per che cosa? Quanti di voi siete sentiti sposati quest'estate per il calore? Allora, la forscolina non solo è per l'equilibrio del peso corporeo, che è un equilibrio tra massa magra e massa grassa, la nostra forscolina aiuta la pressione arteriosa e la respirazione. Ci aiuta proprio, è utilizzato la forscolina nelle bronche dilattatori e nel coliri, perché aiuta proprio con il flusso sanguigno. E questo ci aiuta, ovviamente, per avere più energia, ci aiuta i muscoli, a mantenere la muscolatura e ci aiuta ad essere veramente più in forma. L-carnettine è una bomba, l-carnettine lo produce nel tuo fegato, è un simil aminoacido che è un trasportatore di acidi grassi verso il mitocondrio o mitocondrii e aiuta anche con una chiave enzimatica per far penetrare l'acido grasso nelle membrane del mitocondrio per essere utilizzato come fonte energetica. Così è un vero e proprio, mi sento di dire, coaduvante di brucia grassi. Non è un brucia grassi, ma un trasportatore di grassi che poi gli fa bruciare. E c'è un kit, l'offerta del weekend, per avere più massa magra, più energia, meno grassi e più muscoli, sarcopenia. E quello succede durante il menopausa. Pediamo proprio tonicità muscolare. Trampolino, eccellente. Ricordate che una volta che entra in menopausa lo sport non può più mancare e lo sport deve essere anche mirato. Mi dispiace, mi piacerebbe veramente tanto a dirti, quello che facevi a 30 anni funzionerà a 50. No, noi dobbiamo guardare sempre durata, intensità, frequenza. Queste sono le tre cose che dobbiamo pensare quando vogliamo un risultato del nostro corpo. Se non ci stiamo dimagrendo, se non ci stiamo perdendo peso, dobbiamo cambiare. Durata, la lunghezza del nostro allenamento, la frequenza che la facciamo durante la settimana, due volte, tre volte, quattro volte, cinque volte a settimana, e l'intensità dell'allenamento stesso. Se faccio così, se faccio... L'intensità è un'altra cosa. E anche la metodologia dell'allenamento, per esempio, fluid, è eccellente per scolpirti, tonificarti, senza mettere in ripentaglio la vostra articolazione. Finiamo con Glicofen, perché è l'offerta del weekend, settimana, che finisce domenica sera. Glicofen è un aiutante fortissimo per stabilizzare i zuccheri e i grassi nel sangue. Metabolismo dei zuccheri, metabolismo dei lipidi, e ci aiuta con il controllo del senso di fame, perché il nostro Glicofen ci aiuta a stabilizzare la glicemia nel sangue. E ritorniamo sul concetto di Dr. Barry Sears, colui che ha scritto la dieta zona. La dieta zona stava parlando di tenere la glicemia in zona per permettere la produzione del glucagone, che è un altro brucio grassi, perché viene prodotto dal fegato, per mobilizzare i grassi, per essere poi utilizzato come fonte energetica. Se abbini Glicofen all'L-carnetina, che è un trasportatore dei grassi, Glicofen aiuta il rilascio dei grassi perché aiuta la produzione del glucagone. L-carnetina cattura i grassi, li porta verso i mitocondri, che vengono portati dentro il mitocondrio con un chiave esematico per essere utilizzati come energia, e tu avrai più energia. Sarai più concentrato, meno fame, più energia. Ti cambia, ti cambia, perché quando tu cominci a sentirti più energetico, la giornata cambia. E questa è un'altra cosa che volevo proprio parlare di questo menopausa. Che cosa succede per il menopausa? Di non avere paure del menopausa, perché ci sono tante, tante, tante cose che possiamo fare. La cosa importante è credere che sia possibile. Questo è il nuovo webinar che andrò a parlare da 1 settembre, prossima settimana, non prima, ma secondo 2 settembre, venerdì 2. Cominciamo con questo nuovo percorso, perché se tu non credi che sia possibile, non sarà possibile. Se tu sei terrorizzato dal tuo peso, terrorizzato dal menopausa, terrorizzato che stai invecchiando, e dentro di te pensa che i miei protocolli funzionano per tutti tranne te, avremo problemi, perché vedrai che tutti gli altri hanno risultati ma non te. E questo è un meccanismo veramente sottile, ma veramente importante da affrontare, perché io ho bisogno di farti credere che sia possibile. Se tu credi che sia possibile, vedrai che puoi scalare le montagne. Io ho un amico che ha una gamba sola, lui è riuscito a scalare, che è veramente una montagna, ho altri amici che comunque possiamo guardare dei atleti paraolimpionici, che fanno delle cose straordinarie. Possiamo vedere le persone che hanno deciso di farlo e hanno fatto. E voi avete bisogno della stessa identica cosa di affrontare, affrontare le vostre paure, affrontare le vostre timori e sapere che è possibile di superare voi stessi. Voi voglio bene, vi auguro una giornata incredibile. Scrivetemi su infochiocciolo.gcuper.it per capire che cosa potete fare per voi, perché siete tanti e siete singolari, ma vi posso dire che io sono il biglietto di visita dei miei prodotti, tutto quello che faccio lo uso per me. Sto invecchiando, sì, però spero di invecchiare con forza, con vitalità e con tanti e tanti sorrisi, perché comunque quando ci sentiamo in forza e con energia, il resto è un gioco da ragazzi. Baci dalla Jill e vi aspetto sempre sui miei social per parlare di salute, benessere e sorrisi.